Ok, eccoci qua in questo nuovo video, questo qui è un sabato sera da me, sabato sera in ufficio e siccome mi sono promesso che andavo a caricare un video a settimana, sono già passati sette giorni e non ho nessun video, quindi invece di mettermi a registrare adesso un video ho pensato di condividere con te un'intervista, una chiamata che ho fatto con Jack questa chiamata risale a gennaio, quindi è di un paio di mesi fa e piena piena di valore, quindi se sei dentro il consulting business, c'hai un'agenzia o consulting questa chiamata qua guarda dall'inizio, alla fine prendi appunti perché è piena di spunti, notizie, informazioni che tu puoi andare a utilizzare nel tuo business Jack è uno dei clienti che è partito da zero, letteralmente nella chiamata di vendita l'avevo fatta io al tempo l'ho costretto ad entrare, l'ho forzato, devi entrare per forza, devi fare questa cosa qui perché avevo visto in lui un grande potenziale perché era già dentro il mondo dell'e-commerce nel suo caso aveva avuto i suoi e-commerce in passato ma non monetizzava questa cosa qui a livello di consulting o agency quindi farlo per altri e quindi poi abbiamo iniziato il percorso i primi mesi è stata difficile, non è stata facile la cosa perché ha fatto ulteriore ricerca di mercato per capire bene i desideri, i dolori, cosa vendere, qual è l'offerta, come venderla eccetera poi è stata creata l'offerta ed è stata un'offerta ottima perché c'è sempre stata molta molta richiesta per le offerte di Jack e come vedrete nel video nel mese di gennaio ha chiuso con 22-23k in un unico mese netti di cui 17.000 vengono da un unico cliente e questo è buono e non buono nello stesso momento tutti direbbero è solo buona questa cosa qui ora ti do il mio punto di vista su questo è buono perché ci dice allora la sua offerta è strutturata in questo modo qui c'ha la prima offerta all'inizio che è OTO quindi un unico pagamento, un'unica volta che è un setup quindi consulting, va a fare delle cose poi c'è il pagamento ricorrente quindi i clienti che hanno preso questo poi gli può andare a vendere il pagamento ricorrente che è di natura performance quindi più i risultati sono alti dei clienti più i suoi risultati aumentano il pagamento aumenta è una percentuale quindi 17.000 vuol dire che ha ottenuto dei bei risultati per un cliente per ricevere sta somma qui in cambio e è questo che è una cosa buona la cosa non buona però è che su 22-23 17.000 è un bel pezzo quindi ecco quello che potrebbero andare a fare che la maggior parte di persone fanno a essere sinceri io potrei venire a guadagnare 500.000 euro in un unico mese fare un lancio e guadagno 500.000 e quello che andrei a fare è quello che il 99% delle persone in questa industria fanno è che si marketizzano come la persona che genera questa cifra qui anche se poi la realtà è che ho fatto 500 in un mese ma per 7 mesi poi non ho guadagnato niente ho guadagnato zero però sono la persona da 500.000 euro in un mese come le persone che fanno 50 in un mese 100 in un mese 20 in un giorno o 30 in un giorno o in una settimana quello che è poi continuano a marketizzarsi sempre come la persona che ha fatto questo quindi quando abbiamo visto noi è un bel pezzo 17.000 dei 22 che tu hai guadagnato in un mese il lavoro che è stato fatto fino ad oggi è assicurarci di avere più clienti grossi più clienti che prendono quindi aumentare magari il valore della prima offerta così aumento il mio minimo quindi se va via un cliente io so qual è il mio minimo e Jack ha fatto questo lavoro qui ad arrivare ad oggi ovviamente spandendo anche il suo team migliorando la sua offerta migliorando i risultati eccetera quindi andando da 5 10 15 20 25 aumentando sempre quel minimo che lui può guadagnare anche se ha un grosso cliente che va via magari questo mese qua quindi questo è una cosa importante e fino ad arrivare ad oggi che è leader nel mercato per quanto riguarda il back end che è quello dove lui si focalizza con l'e-commerce ha generato più di un milione di euro attraverso e-mails per e-commerce per i suoi clienti che è un grande risultato quindi senza spendere soldi in ads e sta continuando a crescere il suo team e noi comunque stiamo continuando a lavorare nel mastermind ok? però cosa importante è che vogliamo farlo con tutti i clienti una cosa che consiglio anche a te che stai guardando crescita costante e genuina ok? non fare bombotti e poi oh ti fermi perché ho ottenuto un bel risultato a posto no cerca di capire che un cliente può andare via ok? e quindi ho due clienti ho tre ho metà dei tuoi clienti e devi adesso tornare a vendere se no non guadagni più niente quindi vuoi aumentare il tuo minimo ok? e Jack è riuscito a fare questa cosa qui con successo e sta continuando a crescere e se lasciate abbastanza mi piace o commenti o quello che è posso invitarlo di nuovo qui dentro al canale e farvi una seconda intervista se questa vi piace ed è abbastanza di valore per voi fatemi sapere e senza parlare ulteriormente facciamo parlare un po' anche lui parlerò anch'io però comunque buona visione ragazzi e buon weekend e prima facevo e-commerce come ti avevo anche già detto solo che poi mi sono spostato sul lato agenzia perché volevo creare qualcosa di qualcosa di più grande qualcosa comunque più importante per il lungo termine e soprattutto perché volevo dare valore al in generale al mercato ma comunque a su scala più grande ecco buono buono ok quindi sms marketing email marketing e per quale motivo si possa chiedere se non hai deciso di intraprendere la famosa vendere facebook ads ad attività perché mi sono reso conto che in realtà è un mondo in cui quando ci entri è uno di quei mondi che da fuori sembra tutto a posto e per realtà quando ci entri ti rendi conto che è è un è un insieme di ok devi trovare l'account poi metti caso il cliente non riesce perché non riesce a darti gli idee queste cose poi metti caso ti bloccano l'account metti caso tu hai l'account con tutti i tuoi clienti dentro ti bloccano quello ed è un macello di ok prendi l'altro ad account così poi che in realtà questo è è una piccola parte del perché non ho non mi sono spostato perché poi all'inizio l'intenzione era quella infatti però comunque poi mi sono reso conto effettivamente anche parlando con un amico mio mi fa però effettivamente non c'è nessuno in Italia che fa quello che fai te e dato che io avevo sempre avuto da quando ho iniziato questa tra virgolette passione dell'email marketing portare di più solamente dalle email i lanci e tutto quanto mi ha suggerito di spostarmi su quello anche perché appunto non c'era nessuno che lo facesse e quindi ho ragionato un attimo ho detto cavolo però è vero allora piuttosto che essere uno dei tanti preferisco essere l'unico che fa una cosa che magari poi faranno in tanti però almeno sarò chi ha portato questa cosa e quindi ho deciso di intraprendere questa strada quindi in poche parole hai fatto c'è in altre parole hai preso quello che tu sapevi già che hai fatto prima con te stesso esatto hai un background di e-commerce hai preso quello hai visto quello che funziona con l'e-commerce ti sei specializzato in una cosa e hai iniziato a venderla ad altri e-commerce quindi i tuoi clienti adesso sono altri e-commerce esatto sì perché spesso c'è anche il fatto che magari con le facebook ad c'è gente che magari non ha mai fatto e-commerce per se stessi e quindi non hanno mai fatto ad per e-commerce oppure hanno clienti magari nei local così come si dice nicchia local e poi vanno a fare le ad per e-commerce senza sapere che c'è una differenza e giustamente il cliente che prendi rimane con una brutta esperienza e quindi poi tu lo rovini a tutti gli altri perché quando tu gli metti una cattiva esperienza perché non hai saputo fare il lavoro poi ci vanno a rimettere anche tutti gli altri che sanno fare il lavoro ma che non riescono a chiudere il cliente perché lui ha avuto brutte esperienze e quindi io prima di fare questo ci ho ragionato e ho detto cavolo almeno io ho esperienza dal lato e-commerce quindi in generale su come strutturarlo ho esperienza nel lato email ed sms marketing perché l'ho fatto per i miei stessi e-commerce ho detto quindi qualsiasi cosa succeda io ho l'esperienza mia che posso utilizzare per aggiustare magari eventuali errori problemi o cose che nascono di certo non vado a caso ecco ok chiaro chiaro solo per dare un po' di contesto perché sennò la gente non sa a te a che livelli stai operando adesso se puoi dire questo mese il mese di gennaio quanto hai chiuso allora il mese di gennaio è stato un bel record considerando che è il primo mese dell'anno e in totale sono sui 22.000 rifacendo i calcoli ok di cui la maggior parte di cui quei 17 arrivano di cui 17 arrivano solamente da da quel cliente dello screen che ho messo ok interessante questa cosa qui poi più avanti vorrò andrò a parlare anche di questa cosa qui perché è davvero tanto far da un cliente guadagnare 17.000 cioè è una cosa buona a mio parere ma è anche cioè se si riesce a avere tipo due o tre clienti di questo tipo qua di questo calibro poi comunque andremo a vedere come è strutturata questa cosa qui e perché da un cliente riesce a guadagnare queste cifre adesso tornando un attimo un passo indietro te e vedendo quello che te hai fatto praticamente hai preso che è anche il motivo perché io tra parentesi quando ho fatto la chiamata di vendita con te è stato troppo stretto entrare tra l'altro perché vedevo il fatto che te hai avuto e-commerce hai ottenuto dei risultati quindi una variante importante è che conosci bene quella nicchia lì conosci cosa porta risultati e penso che molte persone e voglio farti dire da dare un'opinione su questo qui su questo argomento molte persone che stanno iniziando non hanno o che hanno magari avuto un'agenzia o che non hanno avuto un'agenzia di online marketing quello che pensano è siccome tutti vendono questa cosa qui facebook ads al dentista vanno e vendono questa cosa qui quindi se io adesso avessi zero esperienze non ho nessuna esperienza in nessun settore il jack di oggi cosa andrebbe a fare cioè se tu fossi in questi questa situazione qua ma allora considerando anche tanto quello che che comunque è consigliabile fare perché secondo me andare alla cieca è la cosa peggiore che tu possa fare più che altro perché se inizi poi dici ok magari vado alla cieca e vado a prendere il primo dentista che capita magari poi ti rendi conto che o non ti piace o ti trovi male e quindi tu non sai effettivamente come poter chiudere cosa poter utilizzare per effettivamente avere una leva con quel cliente quindi la prima cosa che farei in assoluto sarebbe sceglierei una nicchia ma in generale dico che adesso provo questa però mi informo cioè nel senso devo andare e prendere quante più informazioni possibili per capire quali sono quelle due tre cose che possono effettivamente svoltarmi la chiamata possono farmi chiudere quel cliente quindi capire bene qual è quel tipo di problema che ha quella nicchia capire che tipo di soluzione puoi dare a quella nicchia e soprattutto capire se ti può piacere perché ad esempio quando facevi commerce il fatto era puoi vendere anche prodotti che non ti piacciono perché alla fine nel senso ci sta sono prodotti sono oggetti finché non li vedi non è un problema il fatto è che quando vai a lavorare con le persone devi trovare persone con cui lavori bene perché se no cioè si rovina tutto e quindi se tu come clienti ti becchi un tipo di cliente che tu non sapevi fosse così magari presuntuoso oppure che ti vedesse come l'ultimo della sua scala gerarchica eccetera sono cose che tu devi studiare prima cioè devi sapere prima di partire perché così almeno sai anche che tipo di limiti piazzare tra te e il cliente e io lo puoi dire subito mentre invece se tu vai a caso prendi il primo cliente che ti capita il primo dentista fai un lavoro lo fai anche fatto male cioè non ne chiudi più perché non hai informazioni non hai neanche una bella esperienza quello che ha avuto la brutta esperienza ne parlerai ti sei già rovinato in quella nicchia d'accordissimo d'accordissimo con te infatti è qualcosa che vedo molto spesso soprattutto per chi inizia ma anche questa cosa qui sarò sincero è qualcosa che sbagliano anche persone che sono a cioè persone che vengono e sono a 10k al mese la noto tantissime volte che fai che questo qui è la nicchia loro trovano una soluzione per la nicchia la vanno a dare a questa nicchia qui ma sono loro a trovare la soluzione cioè loro dicono questa qui è la cosa di cui hai bisogno la cosa che hai detto te è informarsi infatti noi all'interno del percorso la vedi spingiamo tanto in questa cosa qui ricerca di mercato perché a mio parere l'approccio che anzi l'approccio più dove hai una garanzia più alta di risolvere il problema e se io chiedo prima identifico che problema c'è adesso vado a fare la ricerca e capire come risolvere quel problema lì adesso ho la soluzione venduta infatti quando te cioè io per esempio che non sono esperto nel mondo dell'e-commerce vedo tutti cosa che vanno a fare lavorano nel front end quindi ti faccio advertising per portarti nuove vendite però poi andando a fare un po' di ricerche se una persona va a fare delle ricerche in questo mondo qui si fa vedere che la maggior parte di e-commerce non riescono a scalare perché hanno dei margini di profitto bassi quindi non è un problema di avere più clienti possono accendere le ad e scalare le ad hanno sempre più clienti ma il margine scende di più perché sempre di più perché è normale con le ads più scali più è meno efficiente più paghi per il cliente e quindi si ritrovano a dover tornare indietro c'è quel muro lì questo che è il problema principale che hanno questi e-commerce quindi nel tuo caso te sei andato e hai visto io non faccio quello non ti porto nuovi clienti ma ti aumento il lifetime value dei tuoi clienti o anche magari porti nuovi clienti ma senza pagare quindi nel tuo servizio non pagano i tuoi clienti no esatto perché effettivamente non pagano il traffico intendo no esatto quello no cioè nel senso di mio no il traffico è traffico che già arriva e viene poi convertito però comunque traffico che già arriva io non è che ti faccio non è che ti faccio spendere per avere più traffico che poi convertiamo no io col traffico che stai già avendo ti converto quello esatto e infatti è quello infatti questo qui è il perché quando parlavo con te o su Instagram che poi abbiamo fatto la call cioè il fatto che te sei dentro questo mondo qui puoi vedere i problemi che ci sono in questo mondo la maggior parte di persone però quando decidono ok questo qui è il mondo in cui io voglio andare ma non ho nessuna esperienza e cosa vendo vendo la prima cosa che vedo tutti gli altri vendere vendo nuovo traffico ed è così difficile poi andare a vendere perché ci sono 200 persone che stanno cercando di vendere la stessa cosa in questa settimana hanno contattato la stessa attività e in più non stai risolvendo il problema principale e questa è una cosa che vediamo un po' con tutte le persone che hanno un'offerta potente che si vende bene stessa cosa anche Mattia poi prossimamente farò anche con lui una chiamata così vanno ad attività locali invece di andare anche loro esperti del e-commerce invece di andare ad attività locali e portare clienti all'attività locale che è quello che fanno tutti gli altri ti spostano online e ti dicono la loro offerta in pratica poi lui la spiegherà meglio ti porto a guadagnare con il tuo e-commerce quanto o di più della tua attività locale quindi questa è l'offerta perché il problema che hanno queste attività locali è che è tutto offline non hanno il tempo di andare a dedicarsi all'e-commerce perché quando si dedicano all'e-commerce le vendite offline scendono ma la maggior parte 99% delle vendite arrivano offline non arrivano online quindi piano piano gradualmente col tempo iniziano a dedicarsi sempre di più sull'offline quindi loro vengono sono in due e cambiano questa cosa qua quindi è sempre lo stesso approccio vedo qual è il problema identifico quali sono i problemi adesso vado a casa e studio qual è la soluzione se c'è una soluzione a questo problema ma se c'è la soluzione è venduta è un'offerta potente soprattutto se sei diverso da tutti esattamente beh guarda ti dico lo vedi anche te in questa industria qui ogni persona è lì che copia l'altra persona cioè non capiscono il perché di certe cose quindi se uno inizia vede ok l'altro fanno facebook ads andiamo e facciamo facebook ads l'altro fa facebook e google ads vanno e fanno facebook e google ads con più persone abbiamo visto questa cosa qua ci sono altre cose che tu puoi risolvere che nessun altro letteralmente sta risolvendo e che sono dei grandi problemi l'unica cosa che devi fare però è fare abbastanza ricerche di mercato cioè devi parlare con loro e non è qualcosa di facile da fare perché da dire è semplice fai ricerche di mercato però lo sai bene anche te quando vai poi a parlare con le persone non ti dicono la verità all'inizio cioè devi andare perché pensano che li vuoi vendere qualcosa quindi non ti danno le veri informazioni ti dice sì abbiamo bisogno di più clienti quindi devi avere anche la possibilità di andare più in profondità infatti se ti ricordi anch'io quando quando ho fatto la mia ricerca di mercato ci avevo messo tantissimo a prendere dati ci avevo messo un mesetto due più o meno sì vabbè però ne valsa la pena dai assolutamente sempre te attualmente sei da solo? no allora non proprio diciamo che sì nel senso a gestire il tutto sì le uniche persone che che ho preso sempre tra mille virgolette sono un copywriter e un designer per per le email solo che appunto non è non è ancora niente di proprio ok è un è uno che lavora per me tutto il giorno più che altro perché effettivamente facciamo magari tutte prepariamo tutte la scaletta di email le cose da mandare prima e quindi c'è un lavoro magari di 3-4 giorni nel quale prepariamo tutto però abbiamo tutto pronto per cioè magari per il mese che arriva ad esempio noi il 20 di il 28 così di gennaio avevamo tutto pronto per febbraio cioè io adesso per febbraio per tutto il mese per tutti i clienti ho già tutte le campagne tutte le sequenze pronte e infatti è per quello che mi sto concentrando nel senso sul trovarne altri perché comunque gli altri sono già riuscito a completare tutto quello che mi serviva ok e le due persone che lavorano con te nel team cioè te le paghi mensilmente o cioè com'è che l'hai successo? il copywriter no in realtà no nessuno dei due il designer lo pagò a design e il copywriter in base a in base a quante email fa ok e hai intenzione di prendere persone che è proprio che fan parte del tuo team sì assolutamente assolutamente mi piacerebbe tanto ok ok cioè l'obiettivo prima vuoi raggiungere una cifra prima di spostare perché vedo che tante persone già a 5k cioè ci sono persone che a 0k partono con tre soci e è la cosa peggiore che ci possa essere più che altro perché secondo me partire in tanti quando si fa poco è un po' mettersi la zappa sui piedi perché poi quando inizi a fare devi sempre dividere e per te comunque hai poco hai poco margine ecco e comunque ma in realtà non proprio a cifra cioè non ho tipo una cifra per esempio tipo 30k mensili e poi prendere prendere soci cioè prendere membri del team così mi piacerebbe tanto farlo anche adesso che non avrebbe senso perché se ho tutto programmato non ha senso prendere qualcuno che non mi fa niente per magari un mese poi una settimana fa tutto il lavoro e poi lo dovrei pagare a settimana capito e quindi sì mi piacerebbe averlo però devo trovare un attimo più clienti ecco da gestire così che riesco a dividere le cose nel tempo e quindi avere effettivamente fare le cose anche con un po' più di tra virgolette calma senza avere una settimana di fuoco nella quale mi chiudo e organizzo tutte le campagne tutte le sequenze eccetera e poi andare pian piano a scalare sempre di più ok quindi te se oggi dovessi partire con un cliente ti dedica il lavoro lo fai tutto all'inizio poi per quanto tempo non devi più esatto allora praticamente se dovessi chiudere tipo il cliente oggi alla fine della giornata avrebbe tutte le sequenze già pronte cioè tutto quello che riguarda automazioni sarebbe già tutto pronto che va e parliamo di nove sequenze quindi non sono tipo tre ma sono nove dieci sequenze ognuna con quattro cinque mail dentro quindi tanto lavoro avrebbe subito tutto oggi e poi nella settimana successiva si preparano tutte le campagne si fa tutto il calendario eccetera quindi lui nel giro di quattro giorni effettivamente riesce ad avere tutto quanto pronto per il mese corrente e alla fine del mese ha tutto pronto per il mese successivo e quindi a me sinceramente richiede veramente poco tempo a gestire i clienti più che altro perché spesso effettivamente il cliente non ha mai avuto un lato cioè il lato back end e quindi qualsiasi cosa si va a fare non dico che funziona però quando vedo che magari una sequenza mi porta poco è questione che vado cerco di capire se posso cambiare il subject dell'email oppure il preview text oppure mettere qualche test in più alla fine e tra quarti delle volte è sempre quello che alla fine sblocca come come fai anche sempre te l'esempio del rubinetto una volta che te sblocchi cioè che togli quel blocco poi inizia a scendere tutto bene ma è un'offerta interessante un'offerta dove se io inizio a lavorare con te subito ho una gratificazione istantanea ho appena comprato già del materiale dopo un giorno o due quello che è esatto è molto buono è una cosa che puoi fare dirci qua come è strutturata la tua offerta sì e perché da un cliente arrivi a guadagnare delle cifre così alte certo perché la mia offerta è strutturata a percentuale nel senso che io non ho un non ho un mensile fisso perché ho notato che il mensile fisso le persone spaventa perché dicono sempre ma se poi mi fai fare meno di anche se l'e-commerce può fare 50.000 euro e mi è capitato magari qualcuno che fa 50.000 euro al mese dall'e-commerce però hanno paura a darti 800 euro al mese perché hanno paura che non escano anche se a loro escono magari il tuo lavoro non glieli porta però escono lo stesso allora ho detto una cosa che vedo tanto è che fanno cioè una cosa che vedo è che le persone dicono ok a percentuale così in base a quanto tu lavori io ti pago allora ho detto ok però allora la percentuale la decido io perché io so e sono sicuro di portarti tot per cento e quindi cosa abbiamo fatto mi hai anche dato una mano perché devo ammettere assolutamente a strutturare l'offerta con si lavora a percentuale con una percentuale più alta di quello che normalmente troveresti perché una percentuale solitamente chiedono il 10 noi chiediamo anche il 15 il 20 o il 25 però se non ti portiamo almeno un tot dall'email e questo tot deve essere poi concordato in chiamata perché devo vedere anche che tipo di che tipo di commerce hai che tipo di store stai utilizzando per vedere se è possibile portare quella cifra e ti faccio un esempio del 20 quindi se non ti portiamo almeno il 20 per cento nell'arco di 60 giorni noi lavoriamo gratis e quindi tu di quella percentuale non ci dai un euro c'è anche che noi ti portiamo il 18 per cento tu non ci devi dare un euro anche che ti portiamo 40 mila euro se non è il 20 per cento di quello che tu stai facendo allora noi non chiediamo soldi zero quindi e però ovviamente quando noi cioè quando prendo un cliente è perché sono sicuro ma al cento per cento che io non gli porto il 20 ma gli porto il 30 e infatti è per quello che quando prendo quando prendo i clienti metto sempre la percentuale in base a quanto so che posso portare nel senso che se so che posso portarti il 30 io chiedo il 20 dico ok ti porto il 20 in più perché? perché so che quando poi gli porto il 30 lui dice cavolo doveva portarmi il 20 mi ha portato persino di più rispetto a quello che mi aveva promesso quindi è ancora meglio ovvio che cerco di rischiare ogni tanto nel senso che se vedo qualcuno che può avere una performance da 20 15 gli dico ah si ti portiamo il 25 magari a volte capita però si di base sempre prendo sempre gente che so che effettivamente si può portare quel risultato anche perché non avrebbe senso se no e come fai a essere sicuro di poter ottenere dei risultati ok c'è che inizia e non sa o che appena c'è qualcuno magari che ha appena cambiato la sua offerta e non è sicuro di poter ottenere dei risultati allora spero non suoni come presuntuoso altro però questa è più esperienza nel senso che ho notato che tipo di commerce hanno più appeal per il back end nel senso che bisogna anche tanto vedere il cliente medio di quell'e-commerce che tipo di rapporto ha con l'e-commerce stesso e quindi vedere se è qualcuno che cioè volentieri riceve magari messaggi dal titolare oppure se volentieri ci parla se ha buoni rapporti se invece vedo che è un un e-commerce un po' tra virgolette lasciato che ha già le campagne di per sé sul lato facebook o altro che stanno performando medio bene allora lì può essere un po' più scusami medio male può essere un po' più difficile perché dico ok se tu non hai la parte davanti aggiustata io come faccio ad aggiustarti quella dietro perché io è vero ti devo aggiustare il back end però se il tuo front end non mi manda niente io non posso prendere nuovi clienti se tu non me li stai mandando perché comunque alla fine ok io posso già utilizzare la lista che hai di mail però non riesco ad acquisirti nuovi clienti che entrano nella lista nuova perché tu non stai portando traffico o se lo porti non è di qualità quindi io magari ti faccio arrivare la lista da 2000 a 8000 ma 6000 persone su 6000 persone in realtà 100 magari sono di buona qualità e quindi non ha senso ed inoltre è consapevolezza nel senso che sono molto fiducioso di quello che faccio sono molto fiducioso degli strumenti perché ho visto che in un determinato modo funzionano e allora ho trovato qual è il pattern da seguire per ottenere risultati ho visto qual è la differenza tra chi ottiene tipo quel cliente che ha ottenuto tanti risultati e qual è la differenza tra chi ne ottiene pochi e quando vado effettivamente a fare le chiamate vedo se c'è quella differenza nel senso vedo se c'è un qualcosa che magari quel cliente ha e quest'altro non ha oppure che quest'altro ha ma che quel cliente in realtà ha tolto molto tempo prima e quindi cerco di capire e sono anche consapevole del fatto che so farlo funzionare per quello e il punto come arriva questa consapevolezza qui e come come fai arrivare al punto dove tu sei consapevole perché sarò sincero con te ma questo qui la cosa che hai detto te l'offerta boh ma avere un'offerta potente creare una garanzia ovviamente ti aumenta sei fiducioso in te stesso ti aumenta le vendite così cioè poi quando tu hai davanti un cliente che sai di poter ottenere dei grandi risultati anche la vendita è diversa cioè è molto più spontanea è come la vendita che ho fatto io con te io di solito non faccio chiamate di vendita però con te è stato un caso così su Instagram ho detto andiamo a fare la chiamata e vedo che hai certe carte regola per poter cioè sei seduto lì su un sacco di soldi che tu non vedi quindi la vendita era molto molto spinta ma genuinamente dovevi entrare dovevi fare questa cosa qui per me quindi e poi la vendita c'è il punto è che molte persone non hanno questa certezza qua infatti vedi anche del percorso noi spingiamo tanto questa cosa ti sa il discorso della sovrapposizione dei clienti ma devi avere dei clienti devi avere qualcosa non è che non hai niente e sei lì che devo creare l'offerta irresistibile però se non sono sicuro di chiuderlo non lo chiudo all'inizio te per avere dell'esperienza devi avere dei clienti quindi nel tuo caso è stato hai fatto la sovrapposizione con più clienti hai identificato quali sono quelle cose che quando questo cliente ha queste cose qui ottiene risultati quando non ha queste cose qui non ottiene risultati e in questo modo qui la tua certa perché si ti ripeto adesso ci sta anche aiutando Alessandro Daniele con questo aspetto qui vedi anche con il foglio il rap cioè spingiamo la persona deve fare deve chiudere perché o c'hai la persona che è super confidente vende non ottenendo risultati e continua ce ne sono un po' di agenzie soprattutto agenzie SMMA tipica Facebook ad sa che non ottiene risultati lì che chiude 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 perde clienti dopo un mese nessuna garanzia nessuna cosa adesso queste qui stanno morendo cioè questa agenzia qui non può sopravvivere perché ormai sono tutti rimasti bruciati le persone non vanno a spendere adesso 1000 euro per le Facebook ads così perché faccio Facebook ads ci sono 500 persone che fanno la tua stessa cosa quindi devi avere un'offerta irresistibile devi avere una forte offerta per avere però la forte offerta devi avere qualche cliente quindi all'inizio sì anche quello è vero forse è il fatto che per me è stato un po' più penso facile trovarla perché avendo avuto esperienza mia in passato ho notato effettivamente anche dai miei stessi store che quelli che andavano meglio con le mail ho notato che magari avevano determinate caratteristiche che quelli che andavano peggio non avevano io non me ne poi me ne sono reso conto più avanti però è stato quello poi ovvio avendo qualche cliente ti viene consapevolezza perché dici ok adesso è il terzo il quarto il quinto cliente che ho vedo che è una cosa che faccio e porta risultati se io la faccio e a questo cliente non sta portando risultati allora devo capire il perché forse ho sbagliato io non mi sono accorto di una cosa e quindi quando poi ti blocchi devi capire già capire che c'è un problema ti aiuta a trovarlo e quindi quando ti blocchi devi capire che cosa che cosa c'è di che ti blocca una volta che hai capito devi trovare la soluzione per togliere questo blocco e quindi dire ok questo cliente adesso l'ho preso non è che posso dire vattene però magari cosa posso fare gli posso fare il rimborso gli posso dire che lavoro gratis gli posso gli posso dare tutte le garanzie però almeno so che la prossima volta che mi capita un cliente come questo io so già di poter dire di no e già poter dire di no ti piazza a differenza degli altri già un po' più in alto perché non prendi cioè nel senso non è che prendi il dentista il medico il commercialista l'avvocato l'e-commerce il local no dici guarda abbiamo una gerarchia e proprio perché è un lavoro particolare non possiamo farlo a tutti e quindi si crea è come il discorso dei vestiti si crea l'hype per la tua offerta ed è quello che poi ti rende ti fa scalare secondo me sì 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 assolutamente che poi diventa la tua seconda offerta cioè tu puoi avere la mia offerta è irresistibile se vedo che tu non hai le carte a regola cioè ti manca vedi che quando non ha un forte brand o quando non ha copy nel tuo caso facciamo finta non ottiene quasi mai dei risultati quindi adesso non ti posso vendere questa offerta qui quindi diventa un no però c'è un'altra offerta magari che ti possa andare se io decido ok molti dei miei potenziali clienti hanno questo problema qui adesso posso creare un'altra offerta per quel problema lì però non vado mai a vendere le facebook ads a qualcuno che so già che non può ottenere risultati con le facebook ads però come hai detto super d'accordo se hai già il cliente devi trovare quali sono le altre cose e la migliore cosa è farlo gratis perché è nel tuo interesse cioè se io sto lavorando con te e quello che ti sto dicendo non ottiene risultati quello che ti sto facendo per te quello che è il mio servizio non sta ottenendo risultati il mio incentivo è una cosa dove guadagno un sacco se io vado gratuitamente a provare più cose perché poi quando trovo la cosa mi è molto più facile con le prossime vendite cioè questo qui è tipo jack quindi invece di andare a dire queste cose qui prima faccio farli prima li faccio far questa cosa poi posso decidere o farglielo pagare o sennò comunque la mia offerta non te la vendo cioè ti dico questo non te la vendo devi avere prima questa cosa qua esatto e un altro approccio l'approccio che si è visto fino adesso è un approccio molto c'ho la cosa c'ho una soluzione vendo facebook ads e qualsiasi cliente viene o email marketing o qualsiasi cosa sia o content va qualsiasi cliente ti vado a vendere content esatto e poi come come insegni anche te comunque in generale anche nelle chiamate c'è troppo l'approccio ma in generale da parte di chi vende facebook ads eccetera c'è l'approccio alla vendita non c'è l'approccio all'aiuto che è diverso perché se io ti voglio aiutare tu vedi che io ti voglio aiutare mentre invece se io voglio vendere cioè la gente non piace essere non so come si dica in italiano comunque quando qualcuno vende per forza qualcosa e quindi quando tu ti metti è proprio cioè proprio sei genuino e dici guarda io voglio veramente aiutarti perché io so che puoi ottenere determinati risultati aumenti in generale anche proprio la qualità dei clienti che ti ritrovi perché non è che accettano perché gli hai venduto d'assalto accettano perché hanno capito che tu vuoi aiutarli invece che vederli come soldi capito è quello sì 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 assolutamente ma anche perché i risultati sono il migliore marketing che c'è quindi una volta che te lavori con un cliente ottieni dei risultati poi arrivano degli altri o come fai te cioè che fai i referral quindi un cliente ti può portare qualche altro cliente esatto se tu vendi per vendere dal momento in cui vendi non ottieni dei risultati è ferma lì tu devi continuare a vendere tutti i mesi sei lì che spingi 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 e tutto scende ci devi andare sempre più di forza mentre sì i risultati sono il migliore marketing che c'è alla fine assolutamente assolutamente bene grande grande obiettivi c'hai qualche obiettivo no sì molti 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 beh allora sicuramente questo allora termini monetari in realtà non ne ho tanti più che altro perché in questo mondo come hai potuto vedere di obiettivi monetari ce ne sono cioè è abbastanza oscillante perché non sai mai quanto può essere proprio lavorando a percentuali però per quanto riguarda una base direi superare 25 quindi iniziare pian piano a a scalare sempre di più già anche solamente con i clienti che che già ho perché si può cioè si possono assolutamente portare più risultati e invece per quanto riguarda altri obiettivi mi piacerebbe avere un team più strutturato quindi magari un manager un un designer un copywriter tutti comunque nel senso full time quindi che si occupano effettivamente nell'agenzia a tempo pieno e e soprattutto è più una una questione di status e quindi portare effettivamente il nome di del cioè come primo e come leader tra virgolette di chi ha portato questa cosa in Italia e poi da lì avere il monopolio puoi andare nel mercato inglese c'è già qualche cliente nel mercato inglese? sì qualche cliente ne ho uno nel mercato inglese che poi store in inglese nel senso anche lui è tipo sloveno uno uno tedesco e altri che sono vabbè sempre inglesi stati uniti regno unito però sì comunque anche spostarmi all'estero piacerebbe mi piacerebbe tanto soprattutto con l'appeal del sono il primo in Italia cioè sono il più grande in Italia quindi è quello buono sono sicuro che sarà molto semplice cioè sarà sarà dura però sarà semplice sì per te arrivare lì dura ci sta dai è sempre è sempre quando è dura è sempre ricompensato alla fine come questi mesi da agosto fino ad adesso è stata parecchio dura soprattutto all'inizio e lo sai bene però sì infatti si vede anche dove all'inizio era un po' morta poi un po' piano piano inizia infatti tipo l'altra volta poi ti capitano questi giorni qua dove ci sono i picchi di clienti tipo quattro clienti tre clienti sì mi era capitato la settimana scorsa mi è capitato ho fatto una roba come tipo martedì avevo dalle nove fino alle tipo due tutti i meeting poi alle due ho mangiato e alle tre ho fatto altri tipo tre ho fatto tre quattro cinque e mezza sei infatti è momentum come avevi detto tu sì 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 ma è perché questi giorni qua succedono perché prenoti tanti meeting in un unico giorno cioè li accumuli tutti per un unico giorno sì la maggior parte sì a volte capita perché magari mi dicono guarda io sono disponibile solo domani ok perfetto oppure guarda sono disponibile settimana prossima ah domani non ci sei sì ci sarei domani ok perfetto facciamo domani più che altro perché non cioè non mi faccio scappare nessuno come faccio con le mail con i clienti anch'io cioè non perché poi è perché poi so che in realtà ti dicono è fra una settimana poi tu gli scrivi dicono ah cavolo guarda sentiamoci domani domani gli scrivi ah guarda è fra una settimana ad esempio ieri me ne è capitato uno che era da due ed era da un sacco di tempo che lo tiravo ed era da due tre settimane che continuavo a dirmi no guarda ci sentiamo settimana prossima ho detto vada lascia stare veramente cioè fa niente prendo altri clienti non mi interessa vedo gli altri che sai periodicamente ogni tot magari pubblicano qualcosa te invece una settimana due settimane niente poi boom esatto però comunque sì di media il volume cioè il volume è alto perché c'è 1500 più 10% 15% euro esatto è ritorno di investimento dalle mail quindi se vai a vedere magari quella giornata lì ti porterà non so 100k in quest'anno qui o forse anche di più quindi sono giornate che fanno tanta differenza esatto sono arrivato per fortuna adesso alla media la media è un meeting al giorno sicuro uno due due una volta capita tre a volte due a volte uno comunque però di media di base ho sempre almeno almeno sempre un meeting al giorno infatti ringrazio poi ho questo problema che il 90% sono sono clienti non voglio dire di bassa qualità perché non è mai cioè un cliente non è mai di bassa qualità però non è nel target è quello perché c'è la potenzialità però effettivamente proprio perché lavoro a percentuale non non posso accontentare tutti mi piacerebbe ma non non ne vedrei io un guadagno ecco e quindi e quindi sì però quel 10% quel 10% che rimane invece è gente che è gente forte buono dai bene nel prossimo mese ti sposteremo nel mastermind gratuito così si alza l'asticella che è davvero molto importante non so se lo vedi te stare in un gruppo di persone coppite madonna mia mamma io cioè penso che solo le chiamate che facciamo nel che facciamo quando sono programmate mi hanno mi hanno veramente aiutato tanto ma poi cioè faccio un esempio stupido è il rapporto che si crea ad esempio io come hai visto ho creato un bellissimo rapporto con con Musa ad esempio sì sì anche con Alessandro ho parlato per un bel po' abbiamo comunque un bel rapporto anche con Zach sto parlando molto e cioè sono contento perché ha gente fortissima mindset bellissimo e comunque di testa in generale proprio come ragionano è sempre bello perché riesci perché spesso quando hai una mentalità così non dico pensi di fare tutto giusto però magari non ragioni in altri modi perché sai che ragionare così è quello che ti sta portando dove sei adesso mentre invece vedi che anche solo spostare il focus di una virgola ti cambia molto ad esempio anche Ale abbiamo fatto una chiamata e lui mi aveva consigliato di leggere una cosa e da quando io ho letto quello che lui mi ha detto ho detto cavolo però effettivamente non avevo mai ragionato così e quindi quello ti mette a comportarti anche in un altro modo anche quando fai meeting perché sai determinate cose che prima ignoravi e quello magari è quella cosa che fa scattare la persona quindi sì il network è fondamentale soprattutto quando è un network solito dove ci sono persone che stanno operando a dei livelli alti cioè magari te ti vedi io sono a un livello più basso e sto facendo meno numero cioè se vai a vedere le azioni che fanno altre persone che sono a livelli più alti più alti sì di te dici cavolo stanno facendo più azioni di quello che io sto facendo e quindi continui perché tante persone magari arriva a quei 10k e poi inizia a scendere perché dicevo sono arrivato a 10k e sono abbastanza soldi perché vivi molto bene in Italia quindi inizia a scendere inizia a scendere inizia a scendere però quando sei in una community di cioè persone che vedi che stanno operando a un livello più alto cioè dici cioè rimani lì cioè rimani continui a salire sì ma infatti anche il gruppo vincite serve a quello perché così la gente che sì che un po' non dico dorme però la gente che comunque pensa di essere almeno che si può che si vuole riposare dice cavolo però effettivamente devo spingere di più cioè perché anche a me non piace tanto condividerle però effettivamente quella quella grossa vabbè ci stava perché è stata proprio una soddisfazione però comunque a volte condivido anche perché cioè bisogna dare un po' lo sprint perché magari a qualcuno serve magari qualcuno vuole proprio vedere quello perché così si carica e quindi dico magari lo metto magari qualcuno sai inizia a spingere e magari fa azione poi esatto prova a immaginarti una persona te so che lavori tanto però prova a immaginarti una persona che è una settimana ha deciso di prendersi pausa per una settimana ed è tutto il giorno a guardare Netflix o quello che è in vacanza bagnarti la persona a vedere tipo il canale vincita e continua a vedere delle vincite non se la goda così vede esatto esatto è quello poi vabbè ci sta dipende se hai fatto perché se hai fatto un super mese e hai avuto una super settimana dove hai chiuso nove clienti ci sta cioè nel senso lì è un conto se sai di aver spinto è un conto mentre invece se stai cercando di capire perché hai un meeting a settimana oppure perché hai poche chiusure allora lì è una fase in cui bisogna solo spingere bisogna creare distacco se ha spinto la persona però molte persone spingono meno di quello che dovrebbero a mio parere io la vedo così ci sono molte persone che guardate è sicuro che se prendiamo persone che sono a zero li porti a cinque si rilassa per un sacco di tempo ma semplicemente perché non sei abituato però ci sono altre persone che sono lì che ovviamente si prendono il riposo però è per un obiettivo molto più grande cioè raggiunge quell'obiettivo lì si prende il riposo quindi la persona che è lì che magari ha fatto due settimane dove ha fatto tanti meeting non ha chiuso nessuno però dice ho fatto queste due settimane dove ho fatto tanti meeting ho chiuso un cliente boh mi devo riposare mentre c'è la persona che è a un livello molto più alto di te che è lì che continua a sbattere la testa tutti i giorni lì che fa tanti meeting e lo fa da tre mesi non ha ancora preso il riposo quindi quando tu continui a vedere questa cosa qua ti incentiva cioè dici cavolo non me lo merito adesso infatti c'è una uno che segue si chiama Andrew Tate che spiega sta roba che fa se dai cioè se dai soldi a qualcuno che non è pronto cioè che non li ha mai avuti o che non è pronto ad averli fa loro cioè loro vini per sempre se tu fai diventare ricco uno che è sempre cioè loro vini per sempre perché non è mai stato abituato e invece se tu prima gli dai la testa e poi gli dai come contatto la conseguenza quello inizi a essere più responsabile eccetera se no gli rovini la vita perché magari ok magari sia giusta però lo rovini perché lui deve imparare cioè non ha imparato niente capito invece se continui a sbatterci la testa e capisci perché stai sbattendo la testa poi impari sì 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 dai buono mi è piacere lavorare con te ok un onore per me mi è piacere lavorare con te allora ti io ti saluto vado va bene qualsiasi persona se vuole email ha bisogno di email marketing non so se te Jack prendi anche persone di questo tipo però non si sa mai magari poi qualcuno lavora con l'e-commerce o non si sa no sì assolutamente assolutamente ti può contattare Jack su Instagram ti può contattare ovunque ovunque ho un ho un bel programma di referral che che è bello è bello consistente quindi assolutamente sarebbe anche bello creare bei rapporti quindi per chi vuole sono qua bene dai allora lascerò poi il tuo Instagram o qualcosa qui sotto va bene dai Jack aiuto grazie mille auguri oggi come? auguri oggi da venerdì assolutamente domani io il giorno il giorno off ok dai invece oggi il giorno off bravo allora goditelo dai le grande grazie mille a te ciao aiuto grazie mille ciao ciao a tutti ciao a tutti